Questa tre giorni sicuramente densa e intensa, è iniziata lunedì mattina con un confronto devo dire anche molto aperto e interessante con il giudice Viganò che ha redatto queste due pronunce. Abbiamo iniziato parlando del reato di difamazione nello specifico di quanto è stato fatto dalla Corte Costituzionale di recente ma anche dell'accorato appello che la Corte Costituzionale ha rivolto al legislatore per una riforma più ampia. Anche quando la conversazione era tecnica rivolta alle possibili modifiche e aggiornamenti del quadro giuridico è sempre entrato un po' nel discorso una componente culturale, ovvero dobbiamo cercare di trovare quegli strumenti procedurali o sostanziali che possano portare alla garanzia dell'obiettivo e sull'obiettivo si poi si sfocia su quello che è l'elemento culturale, ovvero del ruolo del libero giornalismo in una realtà democratica. E lì secondo noi, secondo quello che abbiamo visto e ascoltato, c'è ancora abbastanza da lavorare, quindi ci auspichiamo che questi due cammini avvengano sempre in parallelo e mai in maniera confliggente.